Ci si avvia verso il mercato di dicembre e di gennaio, tocca dire Il nostro dicembre si prospetta abbastanza intenso Con tre partite non difficilissime Però abbiamo visto con la Ternitana che di partite facili non ce ne sono E quindi, se riesco a prendere la nostra app degli imbrevisti Cominciamo, dove sei? Eccola Ringraziando sempre il mitico TG Alex che ci ha realizzato il tutto Allora, pre-partita, pre-parma, 3-2-1 Oh, siamo fortunatissimi in questo periodo Fortunatissimi, quindi io confermerei la rosa canonica di campionato Senza fare alcun tipo di variazione Che è qui, però sono tutti stanchi Che confermo sta cippa, confermo Confermo sta cippa Allora, che facciamo? Io uscì dal posto di Soppi Difesa completamente devastata Vabbè, senti, fa una bella cosa Faccio prima a far così Allora Allora, allora Cancellieri dentro Sì Più che altro il centrocampo Vorrei averlo, bello carico oggi La difesa Ma un bel difensore da lanciare dentro Ce l'abbiamo in primavera? Eh? Hussein Mamma mia 61, 18 anni Hussein, facci vedere Faccio vedere chi sei Hussein Faccio vedere chi sei Faccio vedere Faccio vedere Allora Secondo tempo, eh Però Quando Fontanarosa mi andrà in debito di ossigeno Noi avremo Ma a parte che mancava un botto Io perché mi faccio i film? Mangoscio Perché Mangoscio? Io di Gabriele a niente Serrano Ma Aquino Venezuela No Hidalgo Eh Marin Martin Marin Martin Marin Mi piace Butta dentro Alonso Butta dentro Sosa Non ci piace Castro Butta dentro Venezuela Niente Star 3 Ma butta pure Hidalgo A Vidalgo Leone che dice? Lungo Ma Ti dirò Villa Ma Ferrari Ma Moretti No Lombardi Coppola Da valutare Lungo L'altro Russo Ma Ferrari Non si riesce a avere un Ferrari decente Giorgio Rossi Da valutare Vabbè Gli altri Da valutare Un po' meglio Bel lavoro Progetto Giovani Fatto Alleluia E Ci penserò Robert Che te devo fa' È una settimanaccia È una settimanaccia Robert T'hanno fatto fuori Dalle alte sfere Longo Il piccolo Il piccolo Il piccolo Longo Velocità Difesa Fisico Teoricamente Sei proprio Un terzino Ma siccome Non giochiamo A terzini Quanto sei alto Longo 1,79 Però se fa' Nient'altro DC DC per te Marine Martin Marine Passaggi Velocità E dribbling CC Il primo Armondo Che non c'ha La riduzione Sulla D Fai e fa' Fai e farci C Fai e farci C Poi Ci abbiamo Castro Raffaele Raffaele Non ha Tiro Quindi O te se arredo A farci C 60 Di settimana Anche no 35 O te se va A farci L'esterno Ma L'ennesimo Inutile Esterno Javi Hidalgo Con le scarpette Blu Velocità Passaggi Dribbling Tiro Basso Sei in Arte Esterno Inutile Vabbè Ale Invertita Così Aumentiamo La velocità E Agostina Lonzo Velocità Tiro Passaggi Sei una punta Centrale Pura Poco da dire Rapace 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 E Vabbè Eravamo rimasti Alla partita Vediamo un po' Che possiamo Serenamente Scusate un attimo Che cazzo La stiamo facendo Possiamo serenamente Serenamente Anche se Io Stavo Che tanto Ti hai finito Per adesso Andiamo così Poi Oggi Si deve Fa segnata Akuma Oggi Oggi È giorno Della Akuma Io Ho bisogno Fisico Di vedere Asano Segnare Ne ho Bisogno Ne ho Bisogno Allora Partita Delicata Perché Abbiamo Capito Con la Ternitana Che Sono abbastanza Delicate Le partite Generale Ti hai fatto mano Per Parma Può Capatare Capatato Ti prego Lino Lino Ringrazia il cielo Che te l'ha deviata Perché l'avevi mannata In fallo laterale Lino L'avevi mannata In fallo Vergogna Ma ho capito Perché Si sia fatto Gli hai fatto il pezzo No Gli hai rifatto il pezzo Appoggiala Sonnaggia Ho capito Sono entrato Un po' in ritardo Su Ma Stiamo Al sedicesimo minuto È il primo fallo Del gioco Fammi vive Mi fai mancare L'aria Mi fai mancare Eh Coghi Niente Udoge Udoge Bello Ma che cosa c'avete Che non va oggi Ragazzi Col targeting Eh Udoge Sempre lui È partito Fatela tutta 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 No No Non si passa Con Senjuust La 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 semplicità La semplicità Con cui fa cose Senjuust È clamorosa No Fofana Uca Ammazza Ste slide Quanto hanno Normalizzato La situazione È incredibile Ma abbiamo ritrovato Un equilibrio Veramente Netto Tutto ciò che facciamo È buona No Ma per Era andata Era andata fuori Pure questa Lino Guarda Coghi Eh vabbè Lino Lino Gnafa Pulipone Allunga Il tentacolo Lino Lo vuoi far Secondo tempo Sì Tattina Svegliata Cancevieri È partito Lino Ma che palla è Ah C'ho fatto A parte che ha preso Tipo un muro invisibile Si è fermato di botto Lino Non mi sei piaciuto Lino Fatto Non mi sei piaciuto Non sono soddisfatto Ciao Dentro Takuma Voglio Cancellare A tutta Fascia C'ho bisogno Di rizzo Della sua Esuberanza Della sua Genialità Della sua Brillantezza Del suo Estro Del suo Estro Ma cosa Fate Ma cosa Ma cosa Cazzarola Fate Ma se Ma se Sbagliare Sul falo Laterale Ma aiuto Ma che Ma che C'ha vede Che non va Eh Ma che C'ha vede Che non va Ma non Ma non potete Ma Nel esempio In mente Quella scena Del babadook Oh Ancora Quella Quella In macchina Col figlio Su Era difficile Che la passassi Oh Arrabbio Pure te Tra entrate In ritardo E passaggi Sbagliati Terribile Su Manca Manca andai Oggi Senza andai Questa squadra Non c'ha certezze Gli manca Gli manca il ministro Della difesa Rizzo Servi tu Rizzo Serve un guizzo Se scende Giù in piscina Si bagna La cochina Ti guardano Negli occhi Vedrai che poi Esulti Facciamo così Ale Ale Ci voleva Ci voleva Dai Massa Cochi Cochi Pullmaster Anche oggi Palla Otto In buca D'angolo Ogni volta Che tira lui C'ha una precisione E' un chirurgo Cochi Chirurgo mancato Takuma Takuma Taku Taku Tocca prender Di ambulatore Taku Mannaggia Bravo Bravo Grazie Molto sportivo Devo dire Ho apprezzato Il gesto Rispetto per Takuma Cochi Pullmaster Non è possibile Era tutto meraviglioso Tutto Tutto Il passaggio Il passaggio Sembrava Quello De Grosso Quello De Pirlo E Mondiali Per Grosso Da un altro Lato Non vi capite Tanto Inutile Giampaolo Parla 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 Altre L'ingue Niente Lui si capisce Solo con Del neri Tu Provaci No Non è Vero Cochi Pullmaster Niente Lo riusciamo Cochi è caldo Però Asano Asano No Poggia 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 Takuma Niente Non ci credo Non riusciamo Se riesce a bugare Non si riesce a bugare Non ci credo Corner corto Non ci credo No Dritto Per dritto Però Rizzo Trovamo qualcuno a guidarla Rizzo Non è possibile Takuma Takuma Non è possibile Nessuno ha seguito Rizzo Non ci credo Non ci credo Un altro Pareggio Non me la so Sentire Andate La tiracca Rizzo Non me fidavo Regà Non me fidavo Me dovevo fidare Me dovevo fidare Me dovevo fidare Questa è amara Questa è la brutta La brutta battuta D'arresto Questa sì Questa sì Ragazzi Questa sì Questa sì Questa sì Avremmo dovuto Fare un po' meglio Questa sì Ragazzi Questa sì Avremmo dovuto Fare molto meglio Ma chi è tutta Ah sto seguendo Gente Gregor Pappa L'avevo puntato Per gennaio Sei un 69 Sto seguendo Gente Sto seguendo Gente E Fioda Weber Ci sono diversi Giochi Stiamo cercando Un quarto Di difesa La tazza Nakai Del Real Poi semmai Prima di chiudere Ve li faccio vedere Visto che Ci addentriamo Kuiper Ma Petters No Meyer No Jansen Bah Butta dentro Jansen Martens Da vedere Jansen Petters Ho tutti Martens Petters Kuiper Va bene Cambio di ruolo Per Tatto Vado a vedere Jansen Jansen To fire TS Velocità di vita Fisico D T Banotte DC 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 Ociova E' il momento Della tua verità 3 2 1 Un punto C'ho Tutto sto casino Per un punto Vabbè Attaccante Completo Va bene Continua a lavorare Continua a leva Continua a lavorare Bovjoloski Ci sarà tempo Anche per te Allora Noi possiamo Andarci a prendere Il primo posto Quindi giochiamola Diamine Giochiamola Giochiamola Con però Con però Con però Barman E' il suo momento Ragazzi Siamo già qualificati Quindi vanno provati Un po' di giocatori Vanno provati E noi li proviamo Wiley è venduto Per cui non servirebbe Poi Granché Barman esterno Funziona un gran bene Però Vabbè Spazio A Celentano Oggi Qualificazione Acquisita Ci vuole Turnover E Va bene Il nostro Molleggiato Vuole spazio E lo avrà Però L'imprevisto Prepartita Ce lo siamo Però Ascordato Oh Non escono più Imprevisti Meno male Da una parte Bene Proviamo A prenderci Il primo posto Proviamoci Non dico Riusciamo Proviamoci Tutti gli occhi Siamo qualificati Avremo tempo Credo Di vedere Anche il sorteggio Oggi Certo Anche lì Ma adesso Mi è venuto in mente Ora Ma pensi Che questo gioco Non abbiano mai pensato Di fare i sorteggi Cioè Di farti Rivedere È una delle cose Più belle Del calcio Per assurdo Vedersi i sorteggi Delle squadre Che ti interessano Mamma mia Tanaka Però No Troppo Quando non c'è Grande passione In quello che si fa Non vengono neanche In mente Queste cose Vai Molleggiato Grande Abbiamo la catena Di sinistra Oh Sveglia però Usain Su La catena di sinistra Che è tutta cantera Umbra Takuma Bellissima palla Mamma mia Sottoporta Questa è una roba Aghiacciante Rizzo mio Rizzo mio Se non fossi Il top assistman Credo che non ti Salverebbe nessuno Però Bisogna rendersi Alla mare verità Con buona pace Di tutti E il mio rassi Spendi questa squadra E di conseguenza Il campo lo deve vedere Con una certa regolarità Bravo Viti Non ti fa sartà Non ti fa Ho detto Non ti fa sartà Ho detto Bravo Celentano Bravissimo Si fa trovare Non era Non era scontata Come cosa Visto che non gioca mai Barman Per Coghi Che non ne manca una Oggi È un po' Il Felipe Anderson Di questo Perugia Io ti vedo Però Fofanan Non ha i piedi Per fare Quel tipo di cose Si è visto Anche adesso Usain Arche Addirittura Sta cattiveria Gratuita Mi pare un po' Eccessiva Sta cattiveria Scusate se ve lo dico Ma Mamma mia Ma io perché ho ricomprato Asano Perché Ne conservavamo Tutti un meraviglioso Ricordo Coghi Ancora Rizzo Addirittura Non se lo aspettava Nessuno Non se lo aspettava Nessuno Se c'è Tutti E poi Dicono Ma questa Non se lo aspettava La passerà Invece Non la passerà Che poi Se lei In accetto Si è anche Particolarmente Attinente Al nostro Giocatore Vabbè Andiamo avanti Guarda Coghi Rizzo Ah Ok Incredibile Cioè Io riesco a fare Tutto con Rizzo Tutto Non riusciamo a far segnare Asano È una cosa Mi è da piangere Bellissima la palla Ma ancora Tanaka Asano Asano Ti prego Sbloccati Si è sbloccato Si è sbloccato Takuma The king is back The king is back Ci voleva l'Europa Ci voleva E adesso Non fermiamoci Takuma E adesso Non fermiamoci Di rabbia Di insistenza Grande Takuma Non fermiamoci Però Non fermiamoci Se ci fermiamo È un casino Va bene Va bene Va bene Primo tempo Siamo in ballo E allora Balliamo Il Braga Vince Niente Non Primo posto Rimane una chimera Ma non importa La palla è bellissima La palla è bellissima Per Asano Che non si ferma Takuma Di quanto Sta tornando Eh Si è scaldato Si è scaldato Takuma 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 Te sto Di ascaldato Faccio tutte Takuma Takuma Mannaggia La morte Vabbè Che quando stavamo In serie B Queste slide Peggiorative Così peggiorative Non c'erano Però Takuma Dai Avanti così Guarda Rizzo No Ancora Rizzo Può inventare No Troppo Agogi Mannaggia Asano Sempre Asano Bella palla Cochi Arca miseria Era bello Era tutto bello Bravissimo Il molleggiato Salva anche questa Bravo Usain Comunque Devo dire Vabbè che giochiamo Con l'Apoel Però non ha fatto Una brutta partita Ma in realtà Nessuno Dei nostri Giovanissimi Avevi fatto Una bella Una bella Una bella Palla Io Uscita Se solamente Avesse avuto Un po' più Di fortuna Usain Ancora lui Completamente a vuoto Non importa No Dai No dai Raga Ma su Dai da co Andamala di via Andamala di via Non si propone nessuno Signori Su Barman Rizzo Perché Non ce l'hai I cochi Che sei Tifoso dell'Apoel Ti riveli così C'è la palla del 3-2 T'abbio occhi Ma io Veramente Boh Vabbè Vabbè Tanto Passassimo Passati Importante è quello Saremmo stati Comunque secondi Va bene così Va bene così Con tutti Con tutti i giovani In squadra Non si potrà prendere Maio Comunque Si è sbloccato Da Goma Va benissimo E di conseguenza Ci si affaccia A un futuro Prossimo In cui Ci godremo L'Europa Con partite Più impegnativi Impegnativi Parlo com'è Di Irvine Ai tempi Della Valle Verdi Con impegni Con partite Più impegnative Dai Torna titolare Va bene Va bene così Va bene così Va bene così Allora Imprevisto 3 2 1 Niente Oh Due partite Sono due episodi Che è proprio Zero Totale Meglio 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 Siamo sempre primi La Lazio in segue Ma con una partita In più L'Atalanta È a meno due Perugia e Monza Sulla carta La partita abbordabile Lo sarebbe davvero Bah Bah Non lo so Onestamente Ho i miei dubbi Però Continuiamo a crederci Lino È il momento tuo Lino Chiudiamola subito Ma perché Non riesco A essere attivo Quest'anno Bravo Fontanaro Non è No 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 mi rifiuto Categoricamente Di dare sto fallo Categoricamente Mamma mia Ci soffia E la manda Sulla traversa Cocchi Mi serve supporto Brutto fallo Su cancellieri Lino Non ci credo Ma non sbragavo Cancellieri Riarsa The fashion style Sei il più forte Lino Lino perché Ci andavi De piatto Lino perché Ci andavi De piatto Lino Non è Questa Che t'hanno Toccato Ci stavi Andate piatto Tu Mamma mia Alem Da dove è arrivato Ti è fatto male Cancellieri E via Rizzotente Evitiamo Trammi Per carità Per carità Non voglio Correre Ischi Comunque Queste slide Con gli infortuni Ci impongono Una squadra Un po' Più No 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 Qui però Il giallo Qui stiamo Sull'arancione Andante Ma che c'hai Che non va Sarà interessante Questa Questa Maggior frequenza Di infortuni Perché ci impone Una costruzione Un po' Più intelligente Della squadra E mi piace molto Cokie Cokie Pullmaster Sottoporta Non lo fermi Questo Non lo fermi Non lo fermi Bene così Ale Sbloccata Santo Koki Sankoki Da Kyoto Koki Siamo allergici Alla chiusura Delle partite Non ce va Non ce va Guardalo No Aveva fatto Una bella cosa Aveva fatto Una bella cosa Stringendo Sul primo Fai Io morì Fai io Sentì Morì Niente Bravo Fontana Non concede Neanche Il fallo Laterale Oh Rizzo Sta raddrizzando Il piede Attenzione Cokie Mamma mia Bene Buon primo tempo Vediamo che il cacciatore Non si sia fatto Niente di particolare Però Però Siamo abbastanza tranquilli Dunque Koki È un po' stanco Volendo Avremmo Yoshida Però Boh Per adesso Gli farei finire la partita C'è tempo di riposarsi Più tardi Più tardi Più tardi Più tardi Più tardi Senza fretta Lino Alino Mannaggia La miseriaccia Ma è diventato calcio tennis Che state a fare Con questi lanciori Bravi Possesso regalato Lino Non puoi sbagliare Lino Non puoi sbagliare Lino Senti Io voglio far Voglio mettere dentro Takuma Si è sbloccato Credo in lui Voglio credere in lui Voglio credere in lui Bravo Doge Salva tutto Portala fuori Koki 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 No Troppo poca angolata Chi angola troppo Chi angola poco Che cazzo Che cazzo Rola Era un contrivede Meraviglioso Era E' buona E' buona E' buona L'avevo vista dentro E' buona Di nuovo E' buona Di nuovo Mamma mia Amici Caldito E' fontana rosa Tra l'altro Stavolta Se li beve Se li beve Bene Bello Devo dire Alla prima ha preso Ha preso le misure Alla seconda Gli ha sfondato le mani Bravo Bravo così Abbiamo chiusa Signori Incredibile Ma vero Con mia grande sorpresa Stavo sarebbe stata Molto più complicata In realtà In realtà Perugia c'è Con qualche difficoltà Il Perugia c'è Bravo Sopi Vai fino in fondo Sopi Vai fino in fondo Sopi Non c'è nessuno In mezzo Sopi Takuma Perrizzo Vuole l'ennesimo assist Della sua stagione E rigore Oh Non me puoi Fa una cosa del genere Ma Vabbè Ragazzi Qua siamo Ai limiti Di Ronaldo Iuliano Io vorrei Di Ma va bene Lo stesso L'importante è che Siano tre punti Da portare a casa Annullato Il Monza Oggi Devo dire Va benissimo Va benissimo Allora Ragazzi Andata Ce la siamo portata via Devo dire Che vuoi Quanti mesi Se sono altri tre mesi Ragazzi Ragionare una Perché a me piace la frequenza Ma non l'incidenza Se sono tre mesi Tre mesi Ma perché sto dio del piede Ma perché Vabbè Allora Ragazzi Va bene Va bene Allora Prima ne chiude Gravità 30 Gravità 30 Va bene Anzi Favamo 25 Conoscendo il gioco Così C'è frequenza Ma gravità ridotta Cioè C'è staglia Contrattura La cosa Ma non che C'hanno i piedi Con le fette Biscottate dentro Che biologia C'ha FIFA Nel suo multiverso Le ossa Fatte De 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 va bene lo stesso va bene quindi 25 di gravità che è una cosa umana da persone ben nutrite e frequenza alta dettata da appunto gli impegni credo che sia l'equilibrio giusto speriamo se vedo un altro dito rompersi saranno i miei a rompersi contro un muro quindi 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 ennesimo infortunio a questo punto credo che richiamare Amos non sia più una possibilità ma un obbligo una necessità devo dire sì abbiamo fatto il terzetto porca miseria ma poi ma veramente ma questo vuol dire che è programmato per rompe le dita ma perché sto feticcio perché sto feticcio non lo capisco delle dita vabbè io non ho parole a quelle cose che dici vabbè comunque siamo primi due punti di vantaggio sull'Atalanta che insegue e in coppa vediamo un po' la situation ci abbiamo il Wolfsburg attenzione sono molto molto curioso di vedere come andrà però insomma sarà a voi ancora per cui per adesso andiamo a vedere un attimo il vivaio al volissimo e giusto per una settimana due settimane nove settimane dieci settimane due settimane tra l'altro una cosa che mi avete detto intanto ora che ci penso è il discorso di Rizzo che potrebbe prendere punti se lo mettessimo a Cavaloso se lo mettessimo a D a quanto pare mi dite che c'è un bug per cui i giocatori in quelle condizioni vengono in qualche modo fomentati Rizzo che ha preso tre punti quest'anno e vediamo allora due settimane proviamo a vedere se prende qualcosa ce l'abbiamo due settimane per il cambio di ruolo no er 20 mi salve no no ragazzi ce l'abbiamo forse al pelo forse al pelo forse al pelo potrebbe accadere forse al pelo ma proprio cioè per grazia divina il marocco no grazie sono votato solo al perugia anima e cuore di uscita si candidano a maglia diciamo si di uscita forse di uscita forse forse no giocherà asano come sottopunta di uscita lo potremmo far giocare magari al posto di soppi ecco così giusto così ma abbiamo detto anche di barman ora che ci penso che potrebbe fare potrebbe fare la s proviamolo a s che magari decolla pool va bene dov'è cosa amos va bene ragazzi io per adesso vi saluto noi ci vediamo domenica per la chiusura della settimana e speriamo bene di uscita Grazie a tutti.